In collaborazione con Studio Spataro, amministrazioni immobiliari. Ben tornati ad una nuova puntata di Avvocati Rispondono. Oggi parleremo dei pagamenti delle retribuzioni. Dall'1 luglio 2018 sarà vietato l'uso del contante. Abbiamo chiesto all'Avvocato Pollastro se la norma sarà applicabile a tutti i tipi di contratto e cosa dobbiamo sapere per non incorrere in problemi di natura fiscale. Buonasera. Segnalo una novità normativa importante, affondata nelle norme dell'ultima finanziaria. Stiamo parlando del comma, udite, udite, 911, 912, 913 dell'articolo 1 della legge 205 del 2017. Stiamo veramente a parlare di certezza del diritto è quantomeno improprio. Beh, queste tre norme, queste tre commi, però definiscono un passaggio importante nel modo con cui vengono definiti i pagamenti delle retribuzioni. Viene definito in modo chiaro che a partire dal primo luglio del 2018 non possono più essere pagati assolutamente retribuzioni in contanti. Devono essere pagate tutte, obbligatoriamente, con assegno, con bonifico o con altri strumenti di tipo elettronico, il contante viene eliminato, è vietato. Il che vuol dire, in buona sostanza, che il concetto di busta paga, ancora noi oggi parliamo di busta paga, una volta, non molti anni fa, le buste paga erano veramente delle buste dove i datori di lavoro mettevano dentro i contanti, i soldi. Oggi rimane il concetto di busta paga, ma come listino retributivo, non la busta paga, quindi è abrogata come contante. Mi preme segnalare che rimangono escluse da questo divieto soltanto, sostanzialmente, le retribuzioni che vengono erogate nell'ambito di rapporti di lavoro domestico, quindi i colf, tanto le colf, tanto per l'intendenza. Ma la norma interessantissima che emerge è che per la prima volta viene chiarito un aspetto che aveva suscitato in passato molti dubbi, molte incertezze e sentenze assolutamente contraddittorie. Io stesso ne avevo parlato qualche tempo fa, avevo detto attenzione a fare quella cosa, cioè in buona sostanza, il valore che ha la firma che il lavoratore appone sotto la busta paga, possiamo ancora definire, cioè più che la busta paga diciamo il listino retributivo. Cioè in buona sostanza il datore di lavoro dà la busta paga al listino retributivo in cui c'è scritto netto 1.500 euro, il lavoratore firma, quella firma vuol dire che ha preso i 1.500 euro oppure vuole semplicemente dire che ha ricevuto il documento ma che si riserva di verificare. Allora, pacificamente una firma non vuol dire che uno è d'accordo con quella somma. Se uno poi va a fare i conti e dice che non doveva prendere 1.500 ma doveva prendere 1.600, è di tutta evidenza. La giurisprudenza è monolitica su queste cose. Una firma vale come ricevuta eventualmente dalla somma. Oggi si fa un passo in più importante su cui già la giurisprudenza si era mossa in passato ma in maniera piuttosto titubante. La firma fatta sotto il documento vuol dire semplicemente che ho ricevuto il documento ma non necessariamente ho ricevuto i soldi. Quindi il datore di lavoro quindi deve munirsi, come dire, o pre-munirsi o conservare la traccia documentale del bonifico, dell'assegno o degli altri strumenti di pagamento in termini informatici che stanno alla base che sono stati l'occasione del pagamento. Quindi la firma sul documento, sulla busta paga di per sé non vuol dire che quella somma sia stata percepita effettivamente dal lavoratore. Questa è una cosa che devono sapere i lavoratori che quindi dice, ma io ho firmato poi in effetti ce l'ha scritto 1.500 me ne ha dato solo 1.000 dicendo gli altri 500 dopo. Devono sapere i lavoratori ma devono sapere anche i datori di lavoro. Cioè il datore di lavoro allegando, come dire, la busta paga dovrà, come dire, raccogliere e conservare la documentazione bancaria o la copia dell'assegno o quant'altro dalla quale risulti che effettivamente quella somma è stata effettivamente erogata. dopo, eventualmente, si discuterà se è del caso, se quella somma è giusta o non è giusta ma è un altro paio di maniche. Il problema è provare che quella somma è stata effettivamente data ricordando, lo ripeto, che la norma dice ormai che la firma sto leggendo letteralmente il comma 912 dell'articolo 1 della finanziaria la firma posta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione. Grazie. La prescrizione in ambito civile un istituto giuridico che indica l'estinzione di un diritto. Vediamo con l'Avvocato Bortolotti cos'è importante sapere. Parliamo in questa occasione della prescrizione. La prescrizione è un argomento che ha avuto una risonanza importante negli ultimi tempi soprattutto però in ambito di materia penalistica. Se ne è parlato molto anche nel dibattito politico nell'ambito dell'informazione e della divulgazione. E' bene ricordare però che la prescrizione esiste e come e ha degli effetti importantissimi anche in ambito civilistico. Entrando brevemente nel dettaglio ci chiediamo quindi che cos'è la prescrizione in ambito civilistico. La prescrizione è un istituto giuridico che produce l'estinzione quindi l'estinzione di un diritto soggettivo quindi un diritto di una persona per effetto dell'inerzia del titolare del diritto stesso ossia per effetto del non utilizzo da parte del titolare del diritto stesso nei tempi e nei termini che la legge impone. Come si può capire sin dalle prime battute si tratta di un'eventualità di rilevantissima importanza. La legge ha voluto ha previsto l'esistenza della prescrizione proprio per ragioni di certezza stessa del diritto e quasi di ordine pubblico perché è evidente che nella circolazione anche commerciale nei rapporti fra i soggetti con i terzi deve esistere la certezza con riferimento all'esistenza e alla durata di un diritto. E' bene ricordare che le norme sulla prescrizione sono inderogabili proprio per le ragioni di tutela della certezza del diritto e dell'ordine pubblico cui accennavo prima. Questo cosa vuol dire? Che non può esistere la rinuncia preventiva alla prescrizione di un diritto può esservi solo la rinuncia successiva ossia colui che si può avvalere nei confronti di un'altra persona dell'avvenuta prescrizione di un diritto di quest'ultima persona lo può fare solo successivamente per sua scelta libera ma le parti anche all'interno di un contratto non potranno mai accordarsi per l'eliminazione della prescrizione assolutamente ma neanche per l'abbreviazione o l'allungamento dei tempi stessi della prescrizione. La prescrizione in ambito civilistico sia questo periodo che produce l'estinzione del diritto se io non lo esercito non si può applicare a quei diritti cosiddetti indisponibili cioè tutti quelli che hanno a che fare con lo status delle persone un esempio molto concreto è ad esempio la potestà dei genitori sui figli ancorché non esercitata non può assolutamente cadere in prescrizione lo stesso dicasi per il diritto di proprietà io non sono obbligato dalla legge a fare nulla con un immobile o un oggetto di mia proprietà posso tranquillamente non esercitare in alcun modo il mio diritto mantenere la proprietà e non subire alcun tipo di sanzione o di conseguenza pregiudizievole entrando un po' nel pratico ricordiamo che la legge prevede alcuni tipi a seconda dei termini proprio temporali alcuni tipi di prescrizione la prescrizione cosiddetta ordinaria quella cioè che vale per tutto a meno che la legge non preveda diversamente è quella di 10 anni allora ricordiamoci in particolare la materia più importante è quella delle obbligazioni ossia dei crediti e dei debiti il mio credito ha un termine di prescrizione di 10 anni ossia se io devo riscuotere un credito qualcuno deve darmi una somma per le più svariate motivazioni legate a un contratto io ho 10 anni di tempo per far valere il mio diritto poi esiste la cosiddetta prescrizione breve di 5 anni che raggruppa anche qui delle categorie molto importanti ad esempio si prescrivono in 5 anni i diritti legati all'affitto alla locazione quindi il canale della locazione deve essere preteso entro i 5 anni se no cade in prescrizione non può più essere richiesto il diritto agli stipendi e all'indennità dei lavoratori e poi categoria molto importante il diritto al risarcimento del danno extracontrattuale ossia quando io ho un danno che non deriva da un contratto ma da un fatto illecito da qualcuno che mi causa un problema fisico o quant'altro io ho 5 anni per esigere il relativo risarcimento un cenno va dato ad alcune categorie anche se importanti che hanno un periodo di prescrizione più breve e ad esempio una importantissima è quella dei danni da circolazione stradale che sono una sottocategoria dei danni extracontrattuali il periodo dentro il quale io devo pretendere il mio risarcimento del danno che ho subito per un incidente da circolazione stradale è di 2 anni quindi facciamo molta attenzione a non dimenticarci che questo termine è molto breve un anno invece è il termine di prescrizione ad esempio per i premi assicurativi cioè entro un anno dalla scadenza del premio l'assicurazione dovrà pretendere il nostro pagamento altrimenti cadrà in prescrizione il termine prescrizionale e concludo si può interrompere entro appunto i 10 5 o 2 anni con un atto formale ossia una raccomandata una mail di posta certificata o l'avvio di un procedimento giudiziale quindi prestiamo molta attenzione a questo aspetto che riguarda il possibile esercizio dei nostri diritti e quando abbiamo dei dubbi anche sul periodo dal quale dobbiamo cominciare a contare il periodo temporale che può portare alla prescrizione abbiamo assolutamente necessità del parere tecnico di un legale a cui è sempre meglio rivolgersi in questi casi di dubbi anche per oggi la puntata è terminata vi ricordo che se avete domande per i nostri avvocati potete scriverci avvocati rispondono chiocciolaicomizio.it noi ci vediamo settimana prossima Studio Spataro amministrazioni immobiliari